Tre anni fa condusse una nobile crociata per la parrocchia di San Silvestro a Fraine, da anni chiusa, e poi finalmente ristrutturata e riaperta la devozione dei fedeli. Oggi anche l'annuoso e grave problema della strada killer che conduce a quella chiesa è stato inaspettatamente e felicemente risolto dopo una logorante odissea durata un anno condotta con straordinario e appassionato impegno dal professor Guido Brunetti. Le sue condizioni erano drammatiche, pericolosa per l'incolumità pubblica, a rischio soprattutto vecchi e bambini. Come per la vicenda della chiesa, l'illustre abruzzese ha operato su molteplici fronti, genio civile, personalità del governo, deputati e senatori dell'Abruzzo, assessori e consiglieri regionali, tanti silenzi, tante risposte fumose e ipocrite. Tutti i tentativi fatti si infrangevano sugli scogli della crisi, dei tagli e della mancanza di fondi. Con il sostegno di Gianni Letta, altro illustre abruzzese del consigliere alla regione Antonio Prospero, Brunetti non si arrende e con grande determinazione prosegue e vince al fine quella che gli definisce con le parole di San Paolo la buona battaglia. Anche in questo evento proficuo è stato il conforto morale della nonnina novantenne originaria di Fraine. Si dice lieta che un annoso problema si sia risolto, ma è amareggiata per l'insensibilità e l'egoismo di molti e per i tanti silenzi, fra i quali quello dell'americanino, il calciatore Giuseppe Rossi, il quale non ha risposto all'appello ad esprimere un semplice, formale e ovvio gesto di solidarietà per la gente di Fraine. L'arcivescovo della diocese di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte, infine, ha fatto pervenire al professor Brunetti sentimenti di gratitudine.